In questi casi si dice manca solo l'ufficialità. In casa Junior Fiorano però il salto di categoria è nell'aria. La formazione guidata da mister Fabrizio Lazzarini, dopo aver chiuso il proprio girone al secondo posto ed aver pareggiato la finale play-off contro la Rubirese, esultando per il miglior piazzamento in campionato, ora si sente ad un passo dalla promozione in prima categoria, che manca dalla stagione 2009-2010. Quest'anno tutta la società ha fatto bene, abbiamo raggiunto quasi tutti gli obiettivi che ci eravamo prefissati all'inizio stagione. Lo Junior ha fatto il suo dovere, è arrivato secondo, ha perso la finale di Coppa, quindi è fatto molto bene. Non c'è ancora l'ufficialità, ma comunque siamo primi in classifica, dovremmo essere noi ripescati per andare in prima categoria. La società Biancorossa punta forte sul proprio vivaio e quest'anno ha anche aderito a Generazione S. Il progetto di responsabilità sociale è targato Sassuolo Calcio e che guarda proprio al settore giovanile. Settore giovanile che nell'idea della dirigenza fiorenese deve essere il serbatoio delle due prime squadre. I nostri obiettivi, i nostri progetti e programmi che da sempre queste due società portano avanti sono innanzitutto di una scuola calcio qualificata e con della grandissima qualità. Il settore giovanile che deve essere il settore giovanile fiore all'occhiello della società in quanto è il passaggio tra scuola calcio e i grandi. E poi le due prime squadre che nei nostri progetti dovrebbero essere eccellenze, prima categoria per permettere ai giovani che vengono fuori dal settore giovanile di fare o l'eccellenza o la prima categoria ma fare in modo che restino qua in società da noi senza che si perdano in giro. Nella stagione appena terminata tra i protagonisti del vivaio Biancorosso ci sono anche gli allievi 2005 che a metà maggio hanno conquistato il titolo provinciale di categoria superando in finale lo United Carpi. È stata una magnifica annata grazie sicuramente ai giocatori, è stata abbastanza dura ma alla fine ci siamo arrivati in fondo e abbiamo fatto un bel percorso, i ragazzi sono stati bravi e alla fine abbiamo vinto il nostro girone della provincia di Modena poi abbiamo fatto la fase finale per diventare il campione provinciale e abbiamo vinto sia la semifinale che la finale oltretutto la finale l'abbiamo vinto con la squadra United Carpi che l'anno precedente non aveva mai perso abbiamo fatto un'ottima partita. Questa vittoria ci permette alla società Fiorano Calcio l'anno successivo, quindi la prossima stagione per due annate successive, quindi il 2008 e il 2006, di fare il campionato regionale. Già diversi allievi 2005 hanno assaborato il campo con la prima squadra. L'obiettivo è dare continuità al percorso di crescita dei ragazzi. La società, i direttori sportivi hanno fatto in modo che parecchi ragazzi andavano a fare sia gli allenamenti che le partite sia nella Juniors sia anche, addirittura qualcuno ha fatto anche l'esodio anche in prima squadra, in promozione. Questo è l'obiettivo della società, far crescere i ragazzi in modo che vada a metterli e farli giocare i titolari, diciamo prossimamente. Quest'anno la società ha fatto molto bene, in effetti ha permesso a questi ragazzi qua 2005 di esordire già in prima squadra, come abbiamo detto già prima, ma sicuramente l'anno prossimo permetteranno altri 4-5 ragazzi, così vuole la dirigenza, così vuole il presidente, di farli esordire direttamente in prima squadra.